Abbiamo costruito degli incontri quindicinali in cui i saperi dei soci vengono donati agli altri soci. Lo scopo principale è quello di sostenere i rapporti che si vengono a creare all'interno della banca al fine di aiutare un po' le persone a sentirsi meno isolate, meno sole. Nel nostro quartiere ci sono più o meno 12.000 donne sole. Noi abbiamo attive 40 donne che hanno desiderio di incontrare altre donne per aiutarsi a sostenere questo senso di isolamento. I saperi che le nostre soci hanno donato negli ultimi anni sono il benessere della cura del corpo, lo sport, la cucina, il cucito. Avviene che all'interno di questi incontri un socio spiega quello che sa fare e si crea così una situazione di condivisione. Attraverso questo le persone si incontrano, si conoscono e si aiutano in qualche modo a relazionarsi.